Le mani della camorra sul settore dei carburanti. Su proposta dei carabinieri del nucleo informativo del comando provinciale partenopeo, a Villa Ricca la prefettura di Napoli ha emesso quattro interdittive antimafia nei confronti di altrettante società. I provvedimenti del prefetto nascono a seguito delle indagini condotte dai militari grazie al prezioso contributo dei colleghi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, che hanno dimostrato la riconducibilità delle società al clan camorristico Ferrara Cacciapuoti. Si tratta di tre distributori di carburanti e di un bar. Quest'attività, considerata la recente esecuzione delle misure cautelari da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli a carico di persone del clan Mazzarella, evidenzia il crescente interesse della criminalità organizzata nel settore dei carbo lubrificanti. Grazie. Grazie. Grazie.